La necessità di tutelare i pazienti oncologici dal rischio di contagio da coronavirus ha comportato in tutta Italia una riduzione delle prestazioni sanitarie ad iniziare dall'attività di screening per la prevenzione oncologica. Nonostante l'emergenza però, la Toscana figura al secondo posto in Italia dopo il Piemonte, secondo quanto riportato da Agenas nella quarta indagine sullo stato di attuazione delle reti oncologiche regionali. A fare il punto sulle esperienze maturate durante la pandemia e sulle prospettive future sono state l'assessore alla sanità Simone Bezzini e il direttore generale dell'istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica Gianni Amunni. Durante la fase pandemica ovviamente ci sono state delle difficoltà, ci sono stati dei ridimensionamenti di attività come è avvenuto in tutto il paese ma questo ridimensionamento è stato inferiore rispetto alla media nazionale. Secondo aspetto che va considerato la sperimentazione sull'oncologia territoriale, guardate questo è un elemento che è passato un po' sotto traccia ma è una cosa estremamente importante perché è stato avviato un progetto innovativo a livello nazionale, la Toscana è la prima grazie al coordinamento di Ispro che avvia la sperimentazione, l'avviarà in 3AFT della Toscana di oncologia territoriale, un progetto pilota sull'oncologia territoriale. Amunni ha spiegato in cosa consisterà la sperimentazione che la Toscana avvierà a perseguire i pazienti oncologici attraverso un maggiore impiego delle strutture periferiche e territoriali. Con questa delibera noi attiviamo una sperimentazione che avverrà in 3AFT, una per ogni area vasta, dove mettiamo un oncologo o un infermiere territoriali che lavoreranno in stretta contiguità con il medico di medicina generale e l'oncologia ospedaliera, pensando che tutta una serie di attività si possano svolgere ragionevolmente meglio a livello territoriale che non a livello ospedaliero. La riabilitazione oncologica, la psico-oncologia, il supporto nutrizionale al paziente oncologico fino alla delocalizzazione di alcuni trattamenti. Nell'indagine è emerso un dato ritenuto significativo in vista della sperimentazione della delocalizzazione delle cure. In Toscana, durante la pandemia, il consumo dei farmaci oncologici non ha subito variazioni. Il trattamento dei pazienti oncologici è dunque proseguito regolarmente. Grazie a tutti.